ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario msm sul furvet informazioni commerciali titolare terra di kuma srl concessionario terra di kuma srl confezioni msm sul furvet o sbarattolo da 800 g formulazione 1 kg uguale metilsulfon il metano 550 g estratto vite rossa tit in resveratrolo 10 per cento 150 mg zinco aminochelato 150 mg rami aminochelato 150 mg calcio pantotenato 60 mg vitt b6 6 20 mg vitt b6 e 12 16 mg vitt b6 1 14 mg acido folico 2 mg vitt b6 1,5 mg calcio carbonato 60 g contiene fruttosio destrozio indicazioni complesso sinergico studiato per intervenire nei processi infiammatori e degenerativi al carico dei muscoli e delle articolazioni favorendo la rigenerazione del tessuto danneggiato contro dolori di schiena navicoliti laminiti artriti e miositi posologia 30 g al dia per 20 30 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato